Se vuoi entrare nel cuore di un uomo e farli innamorare e poi tenertelo, devi fare alcune cose secondo una sequenza particolare. Allora, la sequenza è la stessa. Allora, devi non farti vedere bisognosa e non farti vedere, come dire, problematica da un punto di vista logico-razionale, che significa una che vuole sistemarsi a tutti i costi, che vuole dall'uomo che gli interessa degli impegni, che lo vuole fedele nei secoli come l'arma dei carabinieri, che è una che controlla, che è una che mette dei paletti, mette delle regole, bla bla bla, perché se no subito la sua parte logico-razionale si mette sulla difensive e al massimo cercherà di inventarsi un po' di scuse, di farsi vedere in questo modo per portarti a letto e dopo che ti avrà portato a letto una volta, due, tre, quattro al massimo, ti darà il ben servito, arrivederci e grazie. Quindi questa è la cosa fondamentale. Poi la seconda cosa che devi inserire, diciamo, in modo parallelo è la stimolazione erotica, sessuale, diciamo una stimolazione che deve avvenire prima di dargliela, ovviamente, anche perché se poi gliela dai, diciamo il desiderio, il desiderio crash, quindi devi sfoggiare degli abbigliamenti sexy, far intravedere un po' di pizzo, però anche essere sempre curata, evita di avere il trucco sbavato, i capelli in disordine, insomma, devi esibire femminilità e trasudare libido, trasudare erotismo e anche proprio nel modo di fare, nella prossemica, usa molto la cinestesica, toccalo e fatti toccare, entra in contatto, senza però, diciamo, superare il limite in modo tale che il desiderio aumenti. Poi, una volta che hai fatto questo, devi stimolare emotività, stimolare emotività qua, devi capire quelle che sono le sue aree distoniche, le sue esigenze emotive, e in questo caso devi amplificarli, diciamo, dei turbamenti, devi andare a, come dire, ad amplificare le emozioni che ha compresse dentro, fondamentalmente. Per fare questo devi conoscere il linguaggio non verbale, saperli interpretare, e saper interpretare i comportamenti, sostanzialmente le emozioni che potresti far vivere potrebbero andare dall'abbandono, al senso del rifiuto, all'indeguatezza, diciamo, al senso di non essere considerato un maschio completamente efficiente, e cose di questo genere, che comunque puoi andare a cogliere se sai riconoscere la comunicazione non verbale. E in ultima parte devi dare una tranquillità, anche alla parte logica, perché inizialmente non si è messa sulle difensive, però devi farti vedere che non sei una, ad esempio, che tende a sfruttare, che tende a scoccare, perché è ovvio che anche qua, certo, se la sua parte logica capisce che sei una che lo vede perché vuole scoccare cene, vuole scoccare passaggi in auto, oppure cose di questo genere, è ovvio che anche qua, tutt'al più, verrà letto una volta con te, e poi dopo basta, perché lui capisce che tu sei soltanto interessato a quello, invece dovrai dimostrarti che, diciamo, certo, alle volte se lui ti invita a cena, giustamente ti può offrire la cena, però anche tu magari gli offri qualcosa, ad esempio fai vedere che sei una donna che sta cucinando, ogni tanto preparali magari tu, una cena, qualcosa, insomma, in modo tale che possa capire che comunque sei una persona anche dalla vita stabile, insomma, che non sei una che mira soltanto a, diciamo, a sfruttare gli altri, quindi se puoi fargli un favore, fargli un favore, fai vedere che sei comunque attenta a quelle che sono le sue esigenze. Questo per, appunto, riuscire ad agganciare anche la parte logico-razionale, che è una molto tranquillizzata all'inizio e che va agganciata alla fine, quindi la parte logica in questa strategia entra sempre all'inizio e alla fine. e poi di mezzo c'è la parte istintiva o sessuale, diciamo, e la parte emotiva che vanno trattate come specificato. Bene, per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo, tenti da seguirmi sul blog http www.soluzionesvip.com. Ciao!